Buonasera, sono Cristian Nirvana D'Amato e ho il piacere di moderare questo incontro in collaborazione con Art Tribune. Il titolo del talk è NFT, nuove prospettive di espressione e di mercato, il tema che verrà trattato è quello della crypto art, un fenomeno esistente da anni ma esploso dal 2019. Ne parleremo con i nostri ospiti che vi presento subito. Allora, Mattia Cuttini, artista di rilievo internazionale che lavora nella crypto art dal 2018. Poi abbiamo Giulio Bozzo, curatore, fondatore della prima piattaforma di vendita di NFT in Italia, risone d'art. E infine abbiamo Bruno Pizzalis, curatore e rappresentante della casa d'asta Cambi, per cui ha recentemente svolto un'asta, una delle primissime aste di crypto art in Italia. Quindi partirei proprio da te Bruno, chiedendoti appunto di fare chiarezza sulla crypto art. Quindi che cos'è la crypto art? Come si collega arte digitale con crypto valute e tecnologia blockchain? Che cos'è un NFT? Innanzitutto grazie di essere presenti questa sera e per averci dato l'opportunità di portare avanti questa discussione su questa nuova scena artistica che è appunto una scena artistica che al suo interno non ha solo l'aspetto artistico ma anche quello tecnologico che diciamo è effettivamente la vera rivoluzione. Allora, come ha detto Christian, fondamentalmente questa scena comincia nel 2018 e poi ha una sua esplosione fondamentalmente a partire dal 2019 fino poi arrivare all'ultimo semestre che abbiamo vissuto. e si basa su una tecnologia che si chiama blockchain e soprattutto sugli smart contract. Grazie agli smart contract si è potuto finalmente incominciare a vendere delle opere digitali. Questo smart contract che è depositato su blockchain, la blockchain è un database, un registro digitale continuamente aggiornato attraverso una struttura di interscambio fra server ha dato appunto la possibilità di aggiungere un valore agli oggetti digitali. Quando parlo di oggetti digitali posso parlare di immagini, file di testo, audio o video. E' una vera e propria rivoluzione perché dà la possibilità agli artisti di vendere direttamente la propria arte senza dover necessariamente entrare in quei circuiti dell'arte più tradizionale dove molto spesso è difficile entrarvi. Oltre a questo una grande rivoluzione è data nelle seconde vendite perché all'interno dello smart contract è appunto possibile inserire una percentuale nelle royalties per le vendite che avverranno a seguire dalla prima. Quindi fondamentalmente l'artista non si deve più preoccupare di rincorrere le gallerie, e rincorrere i rappresentanti ma la sua arte continuerà a dargli appunto un sostentamento ogni volta che ci sarà una vendita. Grazie Giulio, adesso appunto passerei allora la parola a Mattia Cuttini. Buonasera, grazie. Bruno ha illustrato molto bene secondo me, anzi ha semplificato molto quello che sta succedendo in sostanza. Io quello che ti chiedo appunto è di raccontarci la tua esperienza come artista e quindi essere un criptoartista cosa vuol dire? Un artista digitale diciamo, senz'altro quello che ha detto Bruno sono tutte cose importanti ma la cosa che gravita intorno a questo sono le persone che alla fine usano una tecnologia ed è quello anche secondo me un altro aspetto interessante che io ho sperimentato sulla mia pelle diciamo in questi ultimi tre anni sostanzialmente sono stato abbastanza affortunato da poter usare queste tecnologie e alla fine potermi dire artista digitale. c'è una base anche di ginnastica, di palestra che ho fatto nell'era precedente a Facebook che ha distrutto completamente certi micromeccanismi che si erano già generati e in pratica se possiamo semplificare siamo passati dal like sull'immagine o al commento siamo passati a un vero e proprio fenomeno di collezionismo di queste opere digitali. Nel mio caso è cominciato proprio tre anni fa nell'estate del 2018 a interessarmi a queste tecnologie e queste cose è cominciato quasi come un gioco nel senso che si pubblicavano le immagini su queste piattaforme poi c'erano altri artisti, altri collezionisti che acquisivano insomma la proprietà di questo, non lo chiamiamo token nel senso che è una firma digitale che rappresenta quell'immagine o quel video, l'opera digitale e piano piano è stato un fenomeno proprio che è esploso sotto i nostri occhi, sotto i nostri piedi e che continua ad esplodere perché noi diciamo sempre che un anno nella criptoarte vale cinque anni di vita normale ed è vero perché ogni giorno succede qualcosa di diverso e come posso dire è esponenziale quella parola che non mi veniva, cioè è diventata una cosa esponenziale sì esatto, questo si è notato soprattutto negli ultimi mesi assolutamente è completamente mutevole lo scenario insomma quindi un'altra domanda che potrei farti è appunto quali sono gli impegni di un criptoartista quotidiani anche? sicuramente la comunicazione, lo dico subito, se volete seguire questo fenomeno dovete avere Twitter e provare a vedere cosa succede sia per gli artisti che per i collezionisti che per i semplici curiosi cominciare a vedere che cosa succede in questa piattaforma social che poi a sua volta veicola le informazioni che arrivano dalle piattaforme dove si fa il collezionismo piattaforme come SuperRare, come Non Origin, come Rarible, come AsyncArt ce ne sono veramente tantissime e nascono come funghi l'impegno quotidiano è comunicare, comunicare quello che è il work in progress di quello che sta succedendo che è una cosa abbastanza strana perché nel mondo dell'arte non è che pubblico il retro della tela o come sto dipingendo in genere c'è la pubblicazione dell'opera, del concetto ma questa è una cosa per me estremamente affascinante io che arrivo anche con un background tecnico mi piace proprio anche mettermi a servizio di chi guarda le mie cose e quindi fargli capire tutti gli step che ci vogliono per arrivare poi a il token digitale che non è solo il token digitale ma rappresenta proprio tutto questo viaggio, questo percorso quindi comunicare comunicare che cosa stai facendo, qual è il tuo percorso artistico e curare il tuo pubblico che vuol dire anche da semplice dire ciao, buongiorno, buonasera ma anche a parlare con delle persone che potrebbero essere interessate ed è un'altra cosa che normalmente gli artisti non lo fanno perché ci sono dei curatori e dei galleristi e noi abbiamo bypassato completamente questa figura quindi c'è un rapporto più ravvicinato tra artista e collezionista assolutamente ma c'è anche della confusione c'è anche della confusione in cui l'artista diventa collezionista e il collezionista diventa artista c'è molto questa concezione forte di community in questo caso invece se dovessi chiederti riguardo i contro c'è qualcosa solo la velocità cioè certe volte la velocità di queste piattaforme non permette magari a degli artisti tradizionali di potersi inserire in questo flusso così veloce di immagini, di informazioni e si fa un po' fatica dicono che i nativi digitali sono più facilitati in questo certo ma allora la parte contenutistica un po' dopo deve compensarsi a questa velocità cioè non c'è magari quel pensiero molto profondo dietro all'opera d'arte certe volte quindi secondo te qual è la scena attuale a livello artistico della criptoarte come filone generale? cioè gli artisti è tutto abbastanza mescolato dico io nel senso che essendo nell'intersezione tra tecnologia e arte c'è l'arte come l'abbiamo vista fino adesso quindi l'arte statica o l'arte in movimento quindi video arte ma stanno nascendo dei nuovi fenomeni in cui l'arte diventa una cosa programmata o gestita da chi colleziona il pezzo d'arte piuttosto che delle commissioni con il gaming quindi con i videogiochi o con il collezionismo di questi appunto queste figurine digitali chiamiamole che hanno delle caratteristiche che possono essere utilizzate in maniere diverse da quello che si potrebbe fare con un normale quadro che ti appendi a casa tua grazie Mattia adesso passerei a Giulio ti chiederei appunto come funzionano le piattaforme di vendita e ti chiedo anche di spiegarci il modello di Reasoned Art che è la tua piattaforma grazie Cristian intanto veramente grazie a Videocittà per questo evento e per l'opportunità di divulgare questo nuovo movimento della cripto arte soprattutto nel panorama italiano che è qualcosa che manca e per fortuna piano piano sta avanzando intanto per prima cosa la cripto arte sta rivoluzionando il mercato dell'arte classica infatti le piattaforme come funzionano? abbinano il modello di business delle gallerie quindi il cosiddetto mercato primario con il mercato secondario quindi diciamo quello classico delle case d'aste e questa è una rivoluzione incredibile perché l'opera d'arte rimane su una singola piattaforma e come diceva bene Bruno all'artista vengono non soltanto garantite le percentuali nel mercato primario che in questo caso sono anche molto più alte siamo intorno a un 85% in media contro di solito il 50% delle gallerie tradizionali ma l'aspetto più importante è che la blockchain garantisce anche tutti i passaggi di proprietà e così facendo nel mercato secondario ossia quando il collezionista vende ad un altro collezionista e così via l'artista guadagna il 10% di questa transazione e ovviamente come sappiamo il mercato dell'arte ha un problema di opacità e tutto questo la blockchain lo risolve quindi per prima cosa questo è un elemento molto molto importante ci sono tantissime piattaforme di crypto arte dalla prima che è Super Rare nata a New York nel 2017 con i primi fenomeni artistici di Rare Pape e di CryptoPunks che ora stiamo tra virgolette catalogando quasi come collectible quindi anche qui secondo me ne vedremo delle belle infatti anche Mattia vorrei capire anche da te però c'è una distinzione tra collectible quindi oggette di collezione e opere d'arte possono essere le figurine dei calciatori per fare un paragone vicino a quello che è la nostra cultura assolutamente sono quindi delle serie dopo Super Rare sono nate tantissime piattaforme tra cui Nifty Gateway che diciamo è gestita dai fratelli Winklevoss i famosi fratelli del film Social Network della diatriba di Facebook e da lì via via ne sono andate tantissime sicuramente per fare due esempi che sono un po' gli antipodi su Super Rare un artista cosa fa? manda un portfolio la piattaforma diciamo guarda questo artista e decide se può entrare o meno nella piattaforma e quindi tokenizzare e in gergo tecnico quindi mettere in vendita queste opere su OpenSea che invece è una piattaforma diventata mainstream negli ultimi mesi anche perché ha ottenuto un finanziamento di 100 milioni quindi potete capire la portata della rivoluzione cosa succede? che l'utente può iscriversi senza passare da un processo di selezione e ovviamente questo porta dei problemi poiché negli ultimi giorni è nata una questione legata a un utente che si è iscritto col nome di Bansky ha preso un'opera da internet l'ha tokenizzata l'ha messa in vendita l'ha venduta a 300 mila euro ovviamente non era Bansky a tokenizzare quindi il rischio della super decentralizzazione può portare a dei falsi e delle truffe però questo diciamo è un elemento che si è verificato si sta verificando purtroppo molto più spesso ma è un elemento che appunto piattaforme con super rare piattaforme un pochino più curate vanno a limare questo problema successivamente diciamo che queste opere per fare anche un giro legato alla creazione del valore siamo passati dalle mostre fisiche alle community cioè il valore e in mezzo c'è Instagram perché Instagram è diventata la vetrina per gli artisti come diceva prima Mattia da lì si è costruite delle community soprattutto su Discord, su Telegram su queste piattaforme nuove e soprattutto ci sono degli artisti che addirittura hanno creato il proprio token per remunerare i fan più attivi quindi stiamo andando verso un ecosistema veramente molto importante e molto attivo che va a, come diceva Mattia prima ad unire l'artista e il collezionista disintermediando la galleria ovviamente le piattaforme esistono diciamo io stavo studiando conservazione dei beni culturali a Genova nel 2019 ero appassionato di arte digitale ho curato una prima mostra a Palazzo Rosso in via Garibaldi e da lì mi sono interessato per caso al mondo blockchain e al mondo NFT che nel 2019 era veramente qualcosa di quasi irrisorio tra virgolette da carbonari da carbonari da carbonari assolutamente da lì cosa è successo? la mia esperienza in breve faccio un bando dell'Università di Genova vinco un bando appunto per creare una start-up nell'ambito umanistico-culturale nel 2020 quindi mi butto a capofitto su questo nuovo mondo e a gennaio del 2021 fondo la prima start-up società Benefit in Italia legata appunto al mondo della criptoarte noi cosa siamo? siamo una galleria di criptoarte abbiamo sviluppato una demo che abbiamo messo online a giugno del 2021 abbiamo venduto tre opere di tre artisti digitali italiani Giuseppe Ragazzini i Fuse e Annibale Sicconolfi e abbiamo esposto queste opere in 30 schermi digitali di 30 edicole di Milano grazie al circuito di Civic e di ExoMedia questa estate è stata un'estate intensa abbiamo chiuso il primo round di finanziamenti tra cui appunto anche il Venture che è qua di Roma dell'Università Lewis è un investitore privato del mondo dell'arte e ora il nostro obiettivo qual è? è portare prima di tutto consapevolezza nel panorama italo-europeo di questo movimento perché le piattaforme sono quasi tutte prevalentemente oltreoceano e il secondo nostro obiettivo è unire tradizione e innovazione cioè il mondo dell'arte tradizionale non lasciarlo derelitto e fargli attraversare questo fiume che è rappresentato dalla tradizione e dal mondo della criptoarte ovviamente ci vuole un ponte e il ponte è quello che noi vogliamo costruire per non lasciare indietro nessuno ovviamente e la terza cosa importante è avere un approccio on-life cioè un approccio che unisca le dinamiche online quindi della piattaforma digitale di vendita ma l'aspetto anche offline secondo me è fondamentale perché la creazione del valore che citavo prima del sistema tradizionale secondo me non si deve perdere quindi questo è un esempio bellissimo questo evento e questo è un esempio dei tanti quindi come esporre queste opere videomapping aggiungerei sensori immersivi in cui far cambiare diciamo la posizione dello spettatore da passivo ad attivo e quindi farlo diventare spettautore e partecipe dell'opera d'arte anche in ottica di community e quant'altro e l'ultima cosa che volevo aggiungere in tutto questo oltre all'esposizione del videomapping è anche tutte le esposizioni che ci sono adesso di ambienti virtuali in metaverse sono diciamo una nuova frontiera che sta sviluppando anche facebook nei metaverse quindi ne vedremo delle belle nei prossimi anni in cui le persone diventano avatar e appunto entrano dentro questi ambienti virtuali e partecipano a queste esposizioni e concludo con un altro tipo di esposizione che abbiamo testato noi in piccolo con gli schermi digitali ma che in America sta andando veramente fortissimo è stata fatta la prima fiera di NFT a Times Square un evento bellissimo sugli schermi di Times Square e nei mesi precedenti invece i CryptoPunks avevano esposto negli spazi pubblicitari degli schermi digitali sia a New York sia a Miami quindi ci sono veramente tantissime metodologie e il bello è che siamo nella fase 1 del movimento della criptoarte quindi dobbiamo costruirlo veramente insieme e l'approccio che noi vogliamo utilizzare è proprio questo grazie Giulio sei stato chiarissimo adesso passerei a Bruno a te chiederei quindi come si muovono invece le case d'asta a livello internazionale ti chiedo anche di raccontarci poi la tua esperienza con Cambi che è stata in collaborazione con SuperRare che è una delle piattaforme più importanti al mondo di vendita di NFT prego come diceva Mattia appunto questo movimento inizialmente taglia fondamentalmente fuori delle figure dal mercato e diciamo che a queste figure va bene fino a un certo punto nel senso che appunto quello a cui assistiamo e in questo inizio dell'anno 2021 ovvero delle entrate a livello di interesse da parte delle case d'aste la prima a muoversi in questo modo è Christie's e fa quella vendita che di fatto poi fa diventare questa scena non più una scena di Carbonari ma in realtà un qualcosa che occupa le prime pagine dei giornali quindi una vendita di 69 milioni di dollari subito dopo Sotheby's praticamente nello stesso momento in realtà tutte le grandi case d'asta nel mese di febbraio marzo decidono di entrare nel mercato e diciamo che per tutte non è stato così facile perché perché per entrare appunto in un mercato dove la community è molto forte è un mercato nella quale ci sono già ben definiti chi sono i venditori quindi in questo caso i marketplace tutte le case d'asta si sono dovute questionare sul come fare anche solo per essere accettati e poi c'è il discorso della tecnologia anche quindi ad esempio la prima vendita di Christie's con Bipo la 69 milioni di dollari è stata fatta fuori dalla blockchain quella di Sotheby's invece fondamentalmente la seconda viene fatta in collaborazione con Nifty Gateway e ovviamente Sotheby's cosa fa? mostra di avere più forza obbligando Nifty Gateway in quei giorni dell'asta a cambiare il proprio logo e quindi diventa Sotheby's per Nifty Gateway quell'asta è importante perché è importante perché scelgono Pac come artista e tutto il concetto dell'asta e sulla redefinizione del valore di fatti ci sono diversi drop così vengono chiamati in terminologia cripto diciamo le aste alcune sono le prime aste sono edizioni libere le seconde invece per parteciparvi dovevi avere già delle opere di pack per arrivare fino all'ultima che ha venduto a intorno di 2 milioni di dollari e questa opera è semplicemente un pixel anche philips grandissima casa d'aste cerca di entrare in questo mercato lo fa con mad dog jones e producendo quest'opera autogenerativa questa fotocopiatrice che appunto darà vita a x nfts si potrà inceppare potranno uscire delle opere particolari e anche questa questa asta qui non è stata fatta subito in blockchain nel senso che hanno mintato le opere solo successivamente quindi fondamentalmente le case d'aste si rendono conto che c'è un nuovo mercato che non è una bolla e cercano di entrare in questo mercato e attualmente Sotheby's secondo me è la casa d'aste che si è mossa meglio e che sta prendendo tutto il mercato Cristis ha recentemente dichiarato di aver già guadagnato senza aver finito l'anno insomma soldi dalle aste di critto a livello dell'arte contemporanea quindi difficilmente non usciranno anch'io da carbonaro utilizzo di nuovo questo termine prima che uscissero queste aste ero già al lavoro per organizzare quest'asta con Cambi che è una casa d'asta italiana ovviamente molto più piccola rispetto a questi colossi però lo faccio con un intento chiaro per me era importante cercare di creare questo ponte di cui parlava anche Giulio fra i due mondi e soprattutto quello dei collezionisti quindi quelli più tradizionali a quelli cripto e per fare questo mi rendo conto che per organizzare un'asta ho bisogno di non solo organizzare un'asta ma proporre anche tutto un discorso educativo quindi la creazione di webinars fare questa esposizione nelle sale di cambi soprattutto essere disponibile a parlare con tutte le persone che ovviamente abbiamo attratto e poi abbiamo cercato di giocare secondo le regole del gioco quindi oltre webinars abbiamo creato un metaverso ad hoc dove abbiamo fatto dei tour curatoriali e soprattutto io mi sono affidato alla persona che in Italia è la specialista di questo campo che è Serena Tabacchi che è direttrice del Mokta ma soprattutto è una delle prime persone davvero che appunto a Londra parlava di criptoarte digital art insomma è una persona che è un po' il punto di riferimento quindi per me era stato fin da subito essenziale riuscire a capire che avrei dovuto muovermi con l'aiuto di qualcuno ovviamente sempre per il discorso della community grazie Bruno un'ultima cosa che ti chiedo è quali sono dunque le prospettive future a tuo avviso del mercato d'asta e in generale della criptoarte allora sicuramente il secondary market è ciò che diventerà molto importante ovviamente adesso è ancora troppo presto però è anche difficile capire quello che succederà la cosa importante che io tendo sempre a ripetere quando mi mi contattano aziende piuttosto che appunto c'è la possibilità di fare altre operazioni è rendersi conto che l'evento che stiamo vivendo è più unico che raro capita ogni 30 anni forse che si apra appunto un nuovo settore di mercato e si possa costruirlo e questa è la situazione proprio perché si basa anche sul concetto della decentralizzazione quindi siamo veramente all'inizio sia a livello tecnologico ma anche a livello di evoluzioni di dinamiche si incomincia a parlare di DAO e si incomincia a parlarne concretamente quindi appunto un nuovo modo di pensare diciamo che cos'è DAO lo diciamo e noi lo sappiamo e lo lo sappiamo il DAO fondamentalmente adesso lo dico parlando di più che altro del che cosa serve immaginate che appunto un brand come una piattaforma insomma è quello che volete a un certo punto decida di fare che cosa decide che i clienti non sono appunto solo più dei numeri ma possono diventare la ricchezza dell'azienda quindi fondamentalmente lasciando sempre magari un consiglio di 3-4 persone decide di dare questi tokens che fondamentalmente sono poi come delle azioni della stessa azienda insomma della stessa organizzazione questo ovviamente fa sì che i clienti o i componenti dell'organizzazione si rendano conto di avere un potere e di poter anche migliorare appunto il brand e l'organizzazione perché così facendo poi appunto si alza anche il valore il valore di cosa di questi token che sono appunto delle azioni e questo è molto importante perché appunto anche l'ultimo destinatario è di un brand o di nuovo di un'organizzazione non è solo più un numero ma una parte attiva in questo e quindi quello che potrà capitare diventa molto interessante se vogliamo anche questa è un'innovazione nell'innovazione è la prima volta che succede in cui un'altra volta c'è una confusione se vogliamo tra i diversi ruoli che ci sono nelle community o comunque i diversi ruoli che ci sono nei mercati cioè non sei solo uno che compra ma può essere uno che acquista uno che decide e siccome hai comprato e hai acquistato diventi uno che decide quindi probabilmente per chiudere magari il tuo discorso anche le case d'aste ci faranno venire a patti con questi meccanismi ma non solo le case d'aste artisti collezionisti un po' tutto il macromondo intorno a questo super rare che è il primo marketplace che ha appunto ha messo in atto il DAO secondo me l'ha fatto perché ha realizzato che il mercato va conservato in qualche modo va alimentato perché ovviamente a breve la tecnologia sarà sempre più disponibile quindi sarà molto più facile magari anche poter implementare un marketplace o in qualche modo associarlo appunto a una galleria virtuale ma loro si sono resi conto di questo e hanno detto ok prima di far andare via quindi è uno strumento di fidelizzazione fondamentalmente che però è più democratico rispetto ai precedenti inventati della tessera dei punti del supermercato però è anche secondo me un nuovo modo di creare valore questa è la grande cosa che può essere appunto utilizzata anche in esplosione può essere utilizzata non solo nel campo dell'arte quindi davvero anche il campo dell'arte è la prima rivoluzione io sono felicissimo che sia capitato nel campo dell'arte cioè rendiamoci conto che per la prima volta appunto sono gli artisti che decidono su un mercato ed è l'arte che tra l'altro alimenta il valore di una moneta cioè per me è il sogno che ho aspettato per una vita intera sono un romantico ma è così quindi possiamo concludere dicendo che la criptoarte è un fenomeno completamente mutevole in divenire vedremo come andrà si apre a nuove prospettive di espressione a livello artistico e anche di mercato dunque ringraziamo Mattia Cuttini Giulio Bozzo e Bruno Pizzalis grazie ancora grazie grazie ad Art Tribune grazie alla collaborazione a Videocittà di averci ospitato grazie grazie a tutti